ooooh benvenuti in questo nuovo video questo nuovo video di... ne servono due ne servono due ho un concerto mi ero dimenticato... no no eccola vediamo se si sente tutto come si faceva la stessa... come si faceva la stessa? ok come ci faceva? dai fermi si sente il gioco? si ma sta adesso... sta lupando si ma sta adesso... vabbè non si sente ho capito ma aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa si sente il gioco si sente il gioco si sente il gioco non lo so Aumento il gioco Perché ho cambiato l'audio L'ultima volta quindi sicuramente il gioco Si sentirà un cazzo Perfetto E adesso ti metto anche il volume a te Perfetto Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo? Ci siamo? Ci si Si sente il gioco Buona buona La benegativa La benegra, andiamo Ui 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 Oh la festa Sono i cosi Con Guarda I vis Voi andando dei vip Uffo questi vip Però sono profondate Ah no i vip sono qua Ah vabbè Effettivamente Vediamo allora Lì Live in concert Ciao Siamo nella lista Come non è niente Siamo bassi Ehi Razzista Sì 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 Sai ş No No Lì Ci siamo C'è ragione Già Ti è Sin Sì 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 fai io devo adesso c'è lo scudo in faccia non ha la faccia la pista arcobaleno perchè? mi mangia una mentina non mi dirai che giochiamo a kart mi mangia una mentina la pista arcobaleno questo è vero io vado a sinistro e sei andato ok 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 anche a me ricorda qualcosa ecco ecco se non cadi sulla pista arcobaleno non è la pista arcobaleno quindi la pista arcobaleno ehi ma che ci hai fatto qua togliati dal mio spazio dove vai dove vai dove vai destra no non ci vado io ci arrivo non c'è lo scatto non c'è lo scatto non c'è nello scatto nello doppio salto il signor akim che fa il like it di turno non c'è vivo buttare ho sbattuto contro la faccia contro la faccia di? mia contro la mia faccia ma se sei indietro sta zitta cretina lo scattino tattico il rep è è dottima izz dell è incredibile che che riesco a ricordare di premere r1 posto di cerchio al ripartare a differenza di se la ipucca questo è vero pure io ho un occhio siamo dentro i pink floyd no vabbè sono arrivato e ora? ah devi spaccarlo tu puttana no spera è più lungo no mi ha colpito mi ha colpito no sono arrivato non c'è bisogno di un altro piattaforma come supponevo faccio lo scatto ah giusto lo scatto si può stare a sola una volta orco 2 e devi fare uno una volta e poi fermo una volta e poi fermo una volta e poi fermo niente ma che devo fare lo devo colpire forse con lo schiulow 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 segnalo capitano a musica mi servo ti aiuto penso si infatti adesso si può fare rampino a destra a destra no lo so ma Countdown altra pochino però per colpito 2 ma non era alternato NOO sapevo e muoio perchè e lo sapevo che mi dovevo prendere e che vuoi da me si mi piglia per il culo a me no mi ha spinto oltre ok mi ha dato una spinta fortissimo solo globo sferas yes 3 2 1 3 1 molto tempo eravamo Vabbè, io ti davo poco tempo. Ecco la danza, ecco la pa... Ma io sto camminando, tu corri sempre, ma... Io non sto correndo, io sto camminando. Ahia. Ahia. Anzi, non si può correre. Aiuto! Let's dive, bro! Non vedo! Ahia. Ahia. Eh, ah. Eh, ok, si può saltare. You can jump, ahi! È bello voloce, eh? No, ma perché sono volato di nuovo? Perché la tappi amma era mai... È più ardente, ero più... Ero troppo in avanti, ma sto andando troppo veloce! Sì, l'ho capito, ma a me non... Sono morto. Madonna! No, ma anche è un'impossibile questa cosa. E' mai fa volare la casa. Devo volare la minchia di cane. Ok, ma... Bisogna saltare un po'. Uuuuh! Oh, cazzo, dove sono? Non, ma... Eeeh! Minchia! Spettacolo amazing! Spettacolo spiderman! Ma, ma ha detto cool, ma non ha detto amazing. Vabbè, più o meno lì siamo La stessa cosa vuol dire È come dire minchia a posto del testo Da minchia Dovevo esplorare, lì sotto non c'è niente Arrivo Aspetta che giro Wow Il fichuro Guarda, vediamo i piedi Vediamo i piedi Rifilt i piedi Ma spariamo fumo Yo Quello dai tu Che cazzo che ti fa Cantami E infatti siamo solo saliti No, quello piace Ce n'era quello che piaceva Ma manco ti muovi Ma manco ti muovi Quello è quello che non è un hunk Non è un hunk È un libro Ricordo Eh, infatti Siamo quasi Aspetta che ci spaventano evento Ma fai su e giù, su e giù penso Ma fanculo io spacco i tasti Triangolo, guardato, guardato Non vedo però che danze che fanno Po, po, pi, 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 nemmeno di culo la danza Il tuo personaggio fa tutto col culo Ah, cazzo Ho sbagliato Ho sbagliato, ho sbagliato Quello devi premere il triangolo al momento giusto Nel caso C'è che lascio a farlo Come rompere le levette, tutorial Eccoli, ballate tutti Pezzenti di cosi Che ancora devo capire che cosa siete Dovrebbe essere semplicemente posso incidere le winholes Ma non capisco le cose di ferro Eeeh, si ammazzano Ah, ok, li sta risicciando Certo Aprire il pubblico Eeeh, ma questo è Eh Si Di culo sempre Entra Vabbè Oh, eh, eh Eeeh Eeeh Sonic Fanculo, Sonic Cosa da turbo? Non lo so Un po Mi sembra che faccia qualcosa, eh Perché ti faccio tu? Eh, perché ho preso forse, non lo so Pfff Perché io sono Perché tu ti assisti al culo Si, da, da turbo sta cosa Non c'è clacso Po 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 Ho mancato Fa parara 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 Ma che ne sanno due mila Eeeh Cato raio Si quando alle tre c'era Bim bum bam E' game boy baby blue da bu di da bu da Eeeh Stai già finendo I parole di questo tempo Si ma guarda che mi buttano giù la live eh Quindi Si calmasse signore Vai No Ah ok Sono l'infinito Ed oltre Verso l'infinito Ed oltre Ed oltre Eeeh Il buco nero di fu No che Basta 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 E' stato un anno fa ormai Due Tre forse Un anno Penso Penso Un anno No No Non ha ragione Due anni fa E' ragione Manco Era prima della pandemia E' uno di tre anni fa E' uno di tre anni fa Quello lì IL SALE Orca Straia Orca 2 Eeeeee 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 Che addere Eeeh Quella che si bacia Ha un po' di contenio Eeeh 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 Il microfono Ti immagini Che manca il microfono L'abbiamo preso L'abbiamo preso Questo che l'abbiamo preso il microfono Non ricordo sinceramente Vede l'attenzione Ah di cantare tu Canta forza Accendere il microfono Amore mio Come rompere i timpani Ha due cose che non hanno timpani Non hanno niente in realtà Tra le mani e gambe E fu così che May si innamorò di quel libro Ecco il tuo nuovo padre Il libro, porca traio Non è così che deve andare Ma non è animato poi Quindi Vabbè, se lo può stavattare Lo legge Devo camminare, devo fare qualcosa Oh L'ho eliminato Ho eliminato Cody dalla faccia della terra Stronzo, adesso è un gioco single player Pezza di merda Non che possa fare molto Tipo Life is Strange Ma con un pupazzo di pezza Ma cammino solo io Vediamo se c'è qualcosa qua No, vabbè, dai, continuiamo Il tappeto Ah, no, no E se non è un tappeto romale Sembrava un tappeto pieno corto Drogue Drogue Con male Tanto male Molto male Mmm, the heart Non si può passare, game over Ah, ok Certo The Lost and Force parte 2 Nooo, adesso ho preso il controllo Io Nooo Vuoi guardare se c'è me Non c'è più che la rompi coglioni di me Vuoi guardare se c'è me Là sotto Che so curioso Se cammina Se ferma Se è intiposo Se è sparita Se l'appoglio Vedevo I sex No 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 È un gioco di my way out Segurati bridge This is going to be special Mmm Adesso si mette a cantare È meraviglioso No Game over Non l'accento Annulla No Vai me Non ti imponi Guarda lì come stanno allungando il brodo Eh, alla fine Eh, questo è vero Questo è il concerto finale Ragazzi Ah, giusto Non si può vedere per la faccia Niente Entranno nello specchio di prima Vabbè La faccia di minchi Worldbook Classica Children's stories Flight the burn Vicomintestment Log Eh, Mercedes Ah no È solo una macchina È il maestro 3 2 1 Amore Amore mio Ti amo Amore mio Appena la mia mano Non hanno manco la faccia Non hanno manco la faccia Cantasse segno Ti ho detto che adesso sono innamore del libro Lei è andata a scuola da sola quindi Ah, non lo so Quello zaino Con il giubbotto Deve essere uscita Dove cazzo sono Non credo ci possa arrivare C'è arrivata Ah, vabbè, avrà preso una sedia A scala Un ragazzo ha fatto salire lì Eh, infatti Ha preso qualcosa Adesso sento sua madre a cantare Ti immagino E piange Prima non la potevo vedere Quindi Bella sta valigia No, vabbè Non è pesante sta cosa No, pensavo lo stesso tenendo Vabbè Più o meno Più o meno Ah su, se ti è ancora un Beh, due anni che do Mi ascolai Dai, stai dicendo Cosa bella Eh Eh, le Si teca la lanta M***a tu Ma che faccio Anno Adesso le faccio a me Tecnicamente neanche le arecchie hanno Quindi L'interior non posso sentire Però sentono Quindi E vedono E si bacia Ah no Ah, giro ora No Non giro Ah, la cosa non era la L'ha preso lei Nella bambina In teoria si Guarda Pulsano E' un sacco Il concetto di M***a C***o Che c***o Vabbè Verso No Spera Adesso Adesso C'è il plot Sta scendendo Il microfono Non si sente Ah, è un nemico Stendo Sostenente Arco C***o Ah, si svegliano Ah, si bacia Arriva Ah, si sbocca la testa Mancato No Vai Peter Pan E lì Non c'è infatti Ha fatto una nota Letteralmente Una nota Appunto Non ho fatto di niente È bellissimo No, non voglio No, basta Stanno finire il gioco No Ah, bisogna Te ne hai premuto Tanto premuto E invece no Io l'ho tolto Io l'ho tolto Io l'ho tolto No No Oh boy No Ok, basta Basta Oh, che fallo No, che fallo No, non lo so più Guarda Dove ho dato la testa verde Guarda che su Su nostro gioco Una cosa simile C'era E poi Però Poi ti dico Che gioco è Gianni Morandi Lo fa sempre Quindi Smetto di premer Ok Ok Dico Premuto Ci ripenso Dice Forse No La bellocchia Che bella Che rende Ratti Questa scena Comunque Hai baciato Un pezzo De regno Abbiamo Probabilmente Rovenato La scena In teoria Mi clou Del gioco Viva i sposi Sono già sposi Appunto Costo Trantanto Diversione Gli alimenti Che li paga Poi Io sto ancora Tenendo premuto Il triangolo Io penso Serva Io no Perfetto Grazie Mi ha avuto Che io rimanevo Fino a titoli Di cosa Tenendo premuto Il triangolo Guardate Guardate Tignare Guardate Di questo Dove Dzio Curse Tutti ew P k Adio Esplorso Morto Non so Cioè Il mio lavoro è finito Ma non ha outra Niente honestly Ah Sì 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 Fino Aese Di me non avete Bum Ancora Avevo Anzi Anzi non è caduto dalla sedia bubo perché le fome sentivano lui la sedia perché lui era letteralmente nella serie e basta quelle se si è addormentata il busto credo c'è lei sentata a correcare quello semplicemente si sta facendo cazzo su minecraft e se non lo posso sapere neanche lui no niente non lo posso dire no dino land bello morta rosa ah no è una scimmia bella si guarda che avete ucciso bastate rosse rosse per te il foglio l'hanno recuperato nella vita reale non l'hanno ancora recuperato più nel gioco nio scappato che basta di aver scappato nooo ah tu ne minchiavoi una devas è lo stesso che mi chiano nooo poverina penso sia colpa sua ma li inchiuiri una devas e vabbè c'ho pagando per il mondo se si è portato un po' pazzo lo zaino le virendine penso penso che sappia che lei debba mangiare non lo so le aveva rubati capace c'è la carta ah la paghetta la paghetta la paghetta ho un panino e una calenca con me ok allora allora vabbè quella calenca non è vabbè aah il dolce è portato vedete vabbè zucchiolo bello zucchiolo ah 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 non preoccupate mi ma puoi andare a casa ma che c'è Ah, per me Ah, per me Stai a battere Stai a te, ti preoccupare Ma il libro magico ci ha fatto ritorno Ah no, non è colpa a me, non ho voluto Non è la casa Ok Quindi Amici Amici Se erano amici non nasci Vabbè, ingenuo Però è senza emozione a volte Questo è un piccolo problema Questo gioco Ha ucciso il libro Tanto era morto già Facci fuoco Io volevo dire zaino detto libro Vabbè, era esatto lo stesso momento E' stessa cosa E' lui E' il colpevole Diamo il fuoco E' un panino in lecca a lecca Dove cazzo è un panino in lecca a lecca? Un libro in un sciuto zaino Vabbè, qualcos'altro c'è Forse In una canna di trash Oh, ho E' bella che hai fatto A volte potresti trovare reali trattori nel trash Vabbè 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 Let's go Bambino in spalla Let's go Arriba la macchina Arriba l'autobus Mh Mh Lo stavo pensando Pure io Che pane Che vento di merda Che abbiamo noi Mh 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 Infermentartist ci sono Eh Però ci sta L'infermenterà bello Un gerotto? L'avevamo Ah lo che l'hanno ricucita Che l'hanno uccisa malamente quella Level designer Tanti level designer Tanti animatori Neanche troppi da sto Boh Comunque secondo me La cosa peggiore di sto gioco Sono proprio le cazzine nella vita reale Cioè Non so perché i pupazzi L'hanno fatti bene Invece gli umani Fanno veramente So di legno Vabbè Chiasi che non so E il problema non so qual'è Che i personaggi sono di legno Hanno reso legno umano E gli umani legno Ah guarda i doppiatore di Joy Di Cutie Rose Jack in the box Bello 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 Non è che tipo Super copyright Questa cosa Magari c'è la scena finale Tipo non so E arriva Nick Fury Che recluta Loro due Ci stiamo preparando per la guerra Sì Si può saltare Saltiamo Anche perché ho paura che sia Tipo super copyright A lungo che mi piace I te così I te così Yes Allora Anzi Siamo entrambi nella schermata E ti devo rinvitare Mezz'ora Come immaginavamo mezz'ora Di gioco rimanente Sì Literalmente ci mancava l'ultima cosa C'era solo la passata Abbiamo passata di tempo Pure che aveva cazzeggia Durà un po' di meno In che senso Ah sì vabbè No ma io pure Noi proprio Mi immaginavo che con le cazzate Dovevamo aspettare Mezz'ora Sono morto Ok Allora Innanzitutto Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo Facciamo i mini giochi Che ci siamo saltati Vabbè Allora Il problema dove cazzo sono? Eh li cerchiamo Ah non siamo veri Oh mio Dio Adesso sono maschio Eeeh Veramente scomodo, ho il collo che tutto mi dice, ma che cazzo fai? Allora, tutti i miei giocatori sono stati scoperti, alla faccia dell'estinzione, Dinosauro, Dinosauro, Dinosauro Vabbè cerca letteralmente il nome del trofeo e cerca la soluzione, cioè io questo già mi immagino dov'è però non mi ricordo come si chiama il capitolo No, hanno trovato una via d'uscita, anche se non hanno trovato una via d'uscita, è un vaso di plastico Sarà, allora, io sono sicuro che nella parte dove uso quel, quel coso, no? Quel Dinosauro che è mozzica e tu entravi nel, in quel percorso, no? Tipo quel puzzle, sono sicuro sia quello il... Dovremmo essere Ma ti ho già ucciso, quindi sarà qualcos'altro Ehm, di voi lo so, di voi, i teco giù Vabbè, facciamo qua i miei giochi che dovrebbero essere più facili secondo me Ehm, più o meno quali ci mancano di quelli, quali non l'abbiamo fatto Ah? Prima facciamo i minigiochi che secondo me... E quali ci mancano di qua? Sono due, sono due i minigiochi che ci mancano, poi lo vedremo Ma dove sono? Eh, li dobbiamo cercare Tanto, tanto si trovano, visto che qui ci mancano entrambi i minigiochi e le... Ehm, basta trovare qualcosa Ciao 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 Allora, vediamo un giro Diario dovrebbe essere facile da vedere Perché comunque spesso si... Ah, secondo me qui ne abbiamo soltato uno Pogba, pogba Tipo girando qui intorno No No, ci sono solo raggi Stavo perché questa parte poi è solo piena di... Di mini livelli, quindi boh Non caduto, qua non c'è niente Naruto, 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 Kornuto Più forti, più uniti, Kornuto Ok, Kornuto Kornuto sembra che sia un tipo di bambino l'ho provato perchè non ci vuole sii magari si prendeci la telecamera e dai papagola puttana aia 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 amazing qua sotto che è qua eeeh vedi ne hai trovato già uno dove cazzo ah si ancora sopra ancora sopra vedi che noi tutti in prescia l'altro sarà pure così dobbiamo fare l'altro portale aspetta che ci sono i nostri ah sarà questo il gioco arrivo 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 dai ascensore triangolo triangolo esce il quadrato esce il quadrato ah attenzione sulle piattaforme per rivendicarle come tu no eeeh e coso come fu dobbiamo saltare sulle piattaforme eh quel gioco dei colori appena tocchino una cosa diventa del tuo colore ma è senza gravità ma l'assenza di gravità non c'è nel gioco tra l'altro l'hanno messo l'hanno implementato solo per il nostro minigioco ecco nooo sono un piscolo lo prendo eeeh nooo 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 bellissimo bellissimo ok ecco l'altro abbiamo pareggiato questi ladri bel culo per podi nice ok l'ultimo piano il mondo perchè il problema è che dobbiamo fare tutte cose secondo me sarà sarà secondo me pure lì sopra prima di di risalire tutto no dove dove sei andata rosso rosso si si davvero si si ok ah ah aspetta controlliamo se qui ci sono dei 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 capito ho sbagliato dei dei trofei da fare qua a chi siamo qua ci manca quello nascosto che è quello di pinosauro forse è l'altro guarda eeeh che ti a dire guarda che ti a dire io non lo so c'è qua qua questo sei già mai d'oggi allora facciamo così vado su trofei add it 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 ok poi c'è questo qua e i vasi di plastica non ho trovato una via di uscita mmm ok vabbè guarda come vuole punta le stelle letteralmente ok era il momento dell'arresta dei conti bancarotta eh porca miseria niente si devono cercare il telefono ce l'ho eeeh 15 lol che hai fatto eh controlla aspetta faccio una cosa controllo semplicemente il tuo profilo secondo verso punto si allora forse forse hai fatto quello che il dinosaurio che a me manca che tipo tu sei morto boncarotta e questo è questo è bancarotta eh non lo controlla clip ah forse si può fare si può non è di ora la clip non ce l'ho più forse come non più è del 16 12 è del cancello che avevo tentacce di clip e ho capito porca miseria è bancarotta questo quello della pianta questo è tutto si tratta solo con codi no non credo controllo controlla un secondo il la guida perché sicuramente penso che bancarotta sia qua il 16 l'hai fatto il 16 noi avevamo fatto questo qua questo livello qua controlla il la guida questo ti sto dicendo ahhh allora non è qua credo in teoria sono messi in ordine cronologico i trofei quindi una piscina aspetta dove ci sono le palline capito le tre non giuro dai ragazzi ok non è questo dove ci sono le palline si ok forse ho capito dove forse c'è la macchina che esplode guardi tu c'è cosa da girare come sei detto ahhh il codice si mancaretto ahhh devi rompere il forse il maialino cioè l'avevo detto io ho messo l'ultima moneta ahhh 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 sì ok poi lo facciavolo lo faccia un certo obiettivo però io e per questo andiamo avanti allora prosegui dai pianeti ah ho credo spinge per una volta sola non mi ricordavo no in teoria faccio il mio walk ci sono altre zone in cui puoi arrivare mi tocco il piede mi tocco il ca non mi tocco il piede non mi tocco il piede è veloce non ho bisogno di cura volevo fare in preveggenza è arrivato lo stesso no nel senso l'ultimo l'ultimo forse non serviva lo so io l'ho fatto a casa no vabbè l'ho fatto bene ti dasse un pugno quella leva il portale ah vero che ci sei il trasporto a qua ah oh me 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 oh hey oh Oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh Ma se tipo mi divido da te, che succede? Si, si ristoppe lo schermo? No, si allunga finché non può Wow, wow Pronto Hello, hello, oh, hi, oh No ricordao Abbassati, abbassati Ma devi stare fermo per trasformarsi lui Si Vai Vai Dall'altra parte Dall'altra parte Dall'altra parte Aspetta Eh, eh, eh Ma dove? Tu devi fallo Ok Insieme, dai, due Una Ah, già E' la cooperazione Che ciò che sta Non ho capito che le persone si stanno sul cazzo Ah, giusto, giusto, sbagliato Ok Ok Non vuoi più? Ma tu non puoi saltare Ma tu non puoi saltare Sbagliati lo stesso Che arrivava con un salto Aspetta Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Ho sbagliato Ahia Vai Andiamo Noo Che palle Ahia Noo Il mio amico Il mio amico è morto Il mio amico è morto Oh, rilassi Non vuoi comprare tu un altro Che palle Arriva Aspetta che il burro è piccolo Ahah Ahah Te lo smeriti Eeeh Andiamo 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 Ti ho sbagliato Ti ho sbagliato Noo Vabbè Vai 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 Ti ho doppio saltato Capita Ahah Adesso è mia moglie Mi lascia andare Mesto giù Noo Aspetta ma se faccio così Non lo può prendere Perché è troppo grosso Ha molto senso Ok dai Non cazzo giù Giuro Adesso metto giù E gira in tutto Intorno alla stanza Perché ho la panza Perché ho la panza Però è nemmeno faccio un giù Dove mettere poi gli altri trofei Così Facciamo anche se sono in questo abito Non ho perduto Allora Questa ho detto Qui hai detto che qui il trofei non ce n'è Pensi no? Pensi Ma cosa? Da terra Tengo a battere Dove vai? Oh Mei 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 Zia Mei Zia Mei Zia Mei Zia Mei Dove mi sono rivede questo Coia Devi guardare il trofeo del dinosauro Il capitolo è Il capitolo dei dinosauri E' l'altro No Mi stai cadendo Mi stai cadendo Vabbè io non ti posso toccare Ah sei sulla mia ciola Oh Vai Mei Ziai Vai Codì Spingi Vai codi Spingi Dai che ci arrivi Si che ci arrivi Ma non è vero che hai trapassato la mano Si vede preciso No non c'è arriva altra parte eh che siete precisini capito però vai e gira la palla e poi non gira più e adesso gira di nuovo non ci vado te la porto dall'altra parte beh effettivamente non puoi passare no ci puoi arrivare là ho dovuto ritornare ma come fa? ma come lo porta indietro ah perchè sta pizza va che ci arrivi va che ci arrivi ecco c'è qua no scusa è che ti vado abbassata non ti vedevo più no non ci no che parla ah ok cazzo ci siamo fatti il giro per niente effettivamente mi sembrava che il gioco fosse così meschino crudele bastardo ecco vai vai vado 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 tu 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 Ah che puttana! Che dura! Di che cazzo hai fatto con la squadra? Dica, l'hai ucciso! Vado via! Dai che ce la fai signora me! Affondo! MEI! 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 Li abbandonano lì cazzo! Non credo di andare lì? C'è il robot che mi guarda che vuoi? Vai! Ah infatti! Ok entro! No! Non mi sto cadendo! No! Non credo di più! Io quipto! E' affanculo! Un platino facilissimo! Tutti il trofei d'oro dal giusto gioco! Ok in teoria adesso abbiamo finito l'altro minigioco! Cioè in teoria possiamo andare dall'altro minigioco! Sì, non ci vado Blocco il portale Rompio Dio un pugno E ora rispona qua Eccoti Eccolo qua Bastante Oh, il giro è un pugno Aspetta Adesso io lo sto girando e tu no Ah no, la giro è girato Skip 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 No Ho cazzo Ho bagliato posto Ah, ecco qui Infatti No, no, fermo, non è caduto Ho visto E io no Bene qua, tamburo Fatti di sotto, ne lo suoni No Lo posso provare Appena usciamo da qua Ah, anche qua Non posso provare Ma come dobbiamo guittare, do you win Ho chiesto, Cody Ho chiesto, Cody Ho chiesto, Cody Sì, 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 no, lo so Schiva Allora il gioco si clemente In teoria il minigioco l'abbiamo azionato L'abbiamo anche trovato Ti prego il gioco si clemente Dai, fai continuo, credo funziona Ah, ok, ok L'ha salvato Almeno Almeno ha dato Cioè, io ce l'ho qua Tra i minigiochi Infatti me ne quanti Credo che le puro io poi, no In che senso? Che me le conta a me pure, no? E' chiesto che le conta pure a te Perché non ti ha contato tutto il gioco Non ti dovrebbe contare questo E' chiesto che lo sai A proposito di Di minigioco Lo facciamo questo minigioco alla fine, no? Alla fine, no? E' chiesto che le vado, l'abbiamo finito La voglio provare Ma anche il devo io Dai, due secondi ci vorranno Ah, meno per vedere cosa Ma se ti puoi esco dal portal Mi chiedo, se esco dal portal Non è che tipo continuo dal gioco Facciamo il minigioco e vediamo sta cosa Perché capace possiamo utilizzare questi A posto del salvataggio Ok, è tutto qui Cioè tu premi dei pulsanti che il gioco ti indica Ah, l'esempio era Io ho annunciato a giocare Vado a vincere il dubbio Come? Oh, cazzo Oh, mio Dio Aia Aia Cazzo Oh, cazzo Vado a neve Aia Ok Ok Vediamo Vediamo se possiamo uscire Che so Cosa? Ah, riprendi Continua a giocare in orbita Ok, quindi possiamo usare i minigiochi per Per salvataggi Quindi buono è, in realtà Ok, facciamo l'ultimo minigioco Ma è la sessione mi ha detto tu Sì, vabbè Ho fatto torno almeno Solo a sto giro giusto A sto giro giusto Che ci manca l'ultimo minigioco Possiamo anche andare facilmente dal maialino Perché appunto C'è il minigioco là Oltre al salvataggio forse Quindi Allora Qui è il secondo Disinfestazione Quindi più che cominciare Facciamo così Allora Un secondo Il giardino Pollice verde Qua che minigioco c'è Sotto Vediamo A possedere Ah, posizionare i minigioco Perché avevamo tutto il livello Allora, siamo un coglione Ah? Posizionare i minigioco? Non l'ho capito Puoi selezionare i minigioco? Sì Ah, perché avevamo tutto il livello prima? Perché non posso selezionare quelle che non abbiamo fatto Li dobbiamo trovare Tutti Ok Ora adesso siamo qui dal minigioco E possiamo direttamente andare a cercare il secondo Cioè questo è il primo minigioco del mondo Di rifarci tutto il livello Qui c'ho la mozzica Giusto? Come si usa? Ah, ok Così Si deve mirare per forza Sì Ok Buono Sapersi Torniamo indietro In teoria Questo è il primo minigioco che devi trovare Poi ce n'è un secondo Che si deve trovare dopo Quindi Ma qua indietro Andiamo avanti Perfetto Davanti Porca miseria Ste piglie In tre piglie Di verso Questo incastrato Ok Ok Olè Apri la bocca Tutto spaparanzato Bevi 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 la tutta 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 Ah ok È vero Ci sono i tronchi Spassati R2 R2 Vabbè 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 Aia Aia Lo tengo fermo Oh shit Oh shit No l'acqua non serve niente Tu ricopriva Eh C'è tu quella col faccetto Aia Aspetta che qui Sono da me Oh shit Non gli faccio un shit Non ti mai hit Dai Ok In teoria Su tutte Ecco c'è Giusto Skipiamo Skipiamo Allora Ah Che è la parte col ragno Vediamo se c'è qualcosa Qua in teoria non ci può essere niente Perché il ragno Mi pare che non Non ci puoi fare niente Qui dietro Quindi i giochi non ce n'è Non le son compasse Almeno Sono un fiore Ok Sto pensando Non mi ricordo qua Quanto ti In realtà mi pare che ti liberi abbastanza presto Il ragno Quindi Ho lo stesso rumore Di quanto riempie una bottiglia d'acqua Nel lavandino Whats up Ok Ok Oh cazzo Sembra entrambi con il ragno Ok L'ultimo L'ultimo ci manca Di bini gioco Gli altri sono trofei Che ora guardiamo L'alentamento online Perché quelli proprio O ci vai per O ci vai Super per intuito Ma Diciamo che Non ti dà molti indizi Quindi Ci dovrebbero fare Alla Alla prima giocata You doing alright Down there I've never had a pet spider But you're just so suddly Oh Oh Cody Hold on tight for this time Ok Very strong spider Very proud of you You've got some nice tricks little spider Ok Baby qua Ok no Lui può sparare solo da poco molto vicino Rose era qui per vedere questo Paraparapam Paraparapap My pickle spider La 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 Può essere qui qui c'è qualcosa In questi pezzi di legno Cacchio e gli avrei detto sicuramente di sé Invece sembra di no Però mi sospettiscono Aspetta voglio vedere dove sto sparando Che da sotto sopra lui Va bene Non funziona Si rincoglionisce completamente il gioco Non se l'aspettavo quando qualcuno ci provasse E invece Io ci ho provo tutto Un bug tester fa sempre questo Ok questo non si può schippare Ah non fa il c***o Oh c***o Here we go again 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 Ah ecco questo finiva qualcosa Ma ero dimenticato E non è neanche uno dei primi livelli E' proprio uno degli ultimi F***o Dubbioso Dubbio amalettico E faccio il giro E' un dubbio amalettico Letting go Letting go Ah giusto All'alba sorgerò Pericoso Pericoso All'alba sorgerò Resto qui Non andrò più via Forse ho lo devo spinto Se lo piglio Resto qui Non andrò più via Saluterò Abigo Ziggi zangio Tu farò Eccoci Siamo arrivati A una bella Dientro Mi gioco con ragno No Ah c'è il ragno Che abbraccia i ragni Vabbè Ehi Mi sa che c'è qualcosa Però No Ah un bello Humore invisibile Parca puttana Niente Niente Non c'è bisogno di tornare Ero Ero convintissimo Fosse qua Proprio Cento per cento Non mi poteva fermare Nessuno Della mia convinzione Che bel culo Vacciamo a marragno Un fetish Molto particolare Culi di bagno Qui sotto Ci può essere qualcosa Tu Sparando al veleno Guarda se Se sparisce Non da qui Facciamo da qua Dai Perché qui Puoi sparare In teoria No Qua volevo Vabbè contro l'acqua Però Questa è una texter No 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 Arrivo Ah giusto La madre Dobbiamo Così A meno danni Ai nemici Singoli Non lo so A questi piccoli Fatti Danno Tu A questi Piccoli Sì Vedendo Quello Grande No Ai tronchi Di legno Invece No A questi Qui Sì Piglialo Che palle Che palle c'è qualcuno in live, c'è Fabrizoletta con Fabrizoletta, c'è Giulio la tua volta dovevamo provare giusto tu lo hai scordato ma non lo ricordo io, ma non lo ricordo io la stai c'avevo pensato, ci avevo pensato ma non ho voluto sto a fare la live Giulio? c'è qualcuno? non lo so, c'è il tempo poi vedo altre persone online, lo devo, un spettatore vedo ora io ne vedo una e il bot penso io mi lascio la chat qua allora aspetta, è solo chat scrivo qualcosa scrivo scrivo qualcosa si scrivi letteralmente qualcosa mi appasso e non posso neanche non farci caso perché è tipo sotto la barra della vita sono uscito, sono da tutto si ho visto e qua si guarda che è tolto basta, vediamo fare i miei giochi c'è il cactus c'è il cactus spara, fai il cacotus tu a a vabbè io li sto muazzati erano tanti ok dai dai non mi devi ad dire ah scusate però ci è confuso per un mostro chasse è arrivato il principetto man spara faccio mangiare london a che forza penso di sì, penso sia qua no, non lì grazie per avermi tornato tutto in un giorno ha lavorato per il cacto perché la sensibilità di me è così alta in confronto con quelle di Cody LOL ah perché l'hai cambiata le sensibilità non è che le cambio pure a te non è ovviamente cambiata tu hai cambiato la sensibilità di Cody eh infatti solo Cody è diverso eh appunto se l'ho visto solo che è tipo la prima volta che lo vedo prima non c'era io l'attivo può essere ma anche non si può scappare a più perfetto qua non facciamo il gioco e io sto avendo il dubbio che che l'abbiamo superato è possibile è possibile però è possibile infatti non c'è uno spazio mi chiedo se fosse stata se fosse prima di quel minigioco ma non penso in teoria no magari un ratto no sembra enorme allora usiamo la cosa da per stelle un giardino no non c'è un cazzo no non te lo dice non c'è il non c'è un altro non c'è un altro è intanto così e carregalo infatti è sottocarica lo mando io vai ehi Rudolf come stai io sono Olofi vuoi far parte la giù della mia nave ehi c'è una don un'altra don ok basta la citazione ehi ciao come state? vuoi una caramella per caso? io ne ho tante e io ehi dove vai? il mio spazio bastardo turn io vado che vado dove è blu saltiamo tutto porca la puttana qui dietro c'è un gioco no non lo fa è bello che lo si può anche schifare ma poi non io non penso ruggiscano le talpe manco c'è manco il mondo segreto ci può è un trofeo è un trofeo finisce la talpe ammazzava la talpe acchiappava la talpe no la ammazziamo un po' poi la ammazziamo tipo buon servizio le raconte lo si quelle tutto è papà lo del gioco sono in realtà assolutamente che che mi fermo perché scivolato sto stronzo colpa di codi colpa di codi e basta pensavo di non colpirlo sinceramente ma come no? me lo sai pure no pensavo che era troppo lontano però lo so che si può colpire abbiamo fatto l'altra volta tre ore di cazzeggio ciao ciao ne scappa del tasto tra tutti i tasti ferma ancora no è vero perché ho pensato ah lo scatolo qua va bene per cazzoglio pezzo di inverno cazzo te ride no fermo fermo corro se tu coi no 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 ehi ehi e perché prendi da sopra ho preso da qua punto ma è un gioco sotto tu non lo sai la cazzara è una lucciola provarci tu ma la centrale ma la luce ora dopo di me vieni vedi che l'ho preso a scendere lì ma sono presa sopra la testa ce l'ho non l'hai preso la cazzo mia guarda me guarda il mio schermo lo vedi stai mancando di brutto no da me l'ha preso precisa guarda la live va a sinistra per sinistra fra sinistra ripeto finire l'ascolto youtube sopra fara da poco mangiare sopprendendo il nulla trovo sia bello ed a me invece si è più o meno eh che cazzo so cose meserano abbiamo fatto una scoperta t'annaffio mi gioco dove stracazzo sei o qui l'ha avuto un gioco no un altro l'abbiamo fatta in tutto il livello delle piante ce ne sono tre in questo capitolo specifiche a meno ormai ormai lo finiamo come come viene perché tanto siamo nella parte delle talpe collaborazione non credo neanche si possa sinceramente attento che sono muto e tutti i germi non credo non credo non credo non credo non credo guarda tutti stanno arruinando la mia giardina si salvati per dopo che precisione mamma mia siamo un collaboration se siamo corro nooo corro oh è successo il naso talpa saluta e mi combate non è il momento di mi salutare ah che fa le frissioni un vero talpa chad aspetta sei troppo vero ok qui c'è il mio gioco via no no non è vero è stato il mio gioco ma mi sembrava era stato che non l'avevo preso oh e tu e tu e tu addio che tassi va fuck si è il mio nel gioco eh pensavo di averlo visto sinceramente proprio lì oh 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 no nel passaggio a distruggere arca è tutto già prevenuto prima ricerche come se sapessi la cazzo, ci sono andato dentro contro di lui vabbè ma hai attaccato i vermi no guarda che cazzo non vedo un cazzo per favore qui la panza m m m m addio no aspetta si è sparito non sei si è sparito a pensare ho visto arriva è tutto così morirò una famiglia di talpi a morire c'è il mini gioco così vengono più morbide in bocca direttamente a fede a fede nelle palle vai ecco infatti no com'è che sono da far sinistra questa colpa del gioco ci penso io no non fa io volevo fare il colpo con la pianta ciao gnomo abbiamo trovato loro siamo ricchi orco due è bello che io l'avevo missato io di faccia proprio nauca no non so più saltare ma è morta pure lui perfetto 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 è finita così ah siamo con le rane qui c'è un mini giro nooo 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 aspetta qui basta niente c'è lì prendo prendo il tele perché io ho una ah 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 io ho una bimba che mi ama mi ama ok il telefono è al 90% adesso scarica la che carico mia la non mi sto caricando io ho 70 dentro di un carico pezza dentro eeeh eeeh si è terribile ma siamo qui per trovare la storia ma si è terribile ma siamo qui per trovare la storia inizia tuttut tuttutut tuttutut tiny OST aspetta allora allora il giardino larva canestro ok questo l'abbiamo fatto a sinistra dall'area in cui potrebbe perseguire d'l HD ok che altale le sezioni disinfestazione il poco dopo il precedente mi gioco sedite sulla e quello di prima quello che non si sa capito lo siamo aspetta inizio minigiochi quando si sa capito lo siamo no è come domenica l'orco cane ora ora non è prima la stessa zona no che non credo si possa dire lo stesso anche se in un'anime ma che significa che l'italiano twitch twitch no youtube si ma lo stesso non è tutto un po italiano e poi cazzo di sì però su youtube non si possono dire poi togliere la pausa è dovuto fare io come no ma qui mi dice che si è in pausa ok allora poco dopo più gente di gioco sedite sulle pietre a destra dove sono le pietre a destra qui sono mamma porca sono sono altalene mi ha detto il gioco altalene mamma su mamma puttana dovevamo esplorare qua e non ce l'hanno passate qua quindi mamma puttana aspetta un altalena un altalena ci deve essere un altalena che rappresenta il minigioco fuck può essere che qua quella 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 trovata questa no questo è un altalena no a qui ma va no sulle pietre a destra aspetta che vedi qual è il problema delle guide scritte che servono i video io ho una zia vaffanculo no che palle che due coglioni telefoniche si cliccano tutto mi sento un boomer o se non funziona non si può tornare indietro quindi indietro non si può tornare avanti è una pubblicità credo no non era pubblicità niente ah ma qui proprio tutti i trofei ti fa vedere se stessa guida non sono i minigiochi proprio gli achievement ma non c'è niente ciao dopo che noi lo tiriamo a coglioni eh non ce lo faccio guardare sempre a sinistra eh io non ce lo faccio guardare oddio mi sono abituato sai ah ma è strano m***a aspetta che cazzo è qua ma non è vero ste guide italiane fanno cacare non è prima non è dopo qua c'è la casa mi devo tornare indietro quindi no tanto poi no aspetta fammi vedere continuare a seguire perché prima fa salta lena lui è infatti è prima non è dopo è prima quanto fa vediamo se riusciamo qualche modo magico a farsi che lo spo ci spona dietro tu sei una m***a le guide pure sono una m***a eh oh ci stai riuscendo perfetto perfetto allora sai dov'è un c***o qua tipo aspetta che che l'avevo vista c'è molta luce qua 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 ok perfetto il minigioco ah 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 ma ancora lo dobbiamo fare ah 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 vabbè perché giustamente lo sblocca appena lo vede salta più lontano di me ma uno ne mancava ce ne mancava uno eh te l'ho detto che ne mancava uno tu non mi ascolti quando fa no sono triste no eh beh tu manco mi ascolti quando fa no io non è che non ti ascoltai io che non ti sento eh tu ti rampi come non ce lo vedi come è che se saltava ah c'è il tempo c'è il tempo ma dove farlo eh saltare eh ha saltato eh finito il tempo no 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 non ho rotto un c***o accattati un microfono buono era un microfono matteo come ragione vabbè buono e dovevo fare capito capito quello li dobbiamo fare vuole tutto il fatto fatto si deve essere caso dovrebbe essere assenza di giochi si sente bene l'altro alle altre cuffie da 3.000 euro hanno il microfono che non sono adatte per i video perché non è cuffia da sempre che mi lamentate su di me adesso non credo tu possa per scaricare il passato giuro ma poi l'hai detto pure tu era capitolo 3 e non mi ricordavo va bene va bene a dovrebbe essere qua credo natasha natasha romano tutto 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 tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut però non c'è Matteo, se c'è ma non mi dice sembra uno spettatore, basta Anche a me Un po' sminchato Allora, questa vada no, qua è, vada, tenendo le monete e non c'è un filo Vedi che c'è un culo qua Ehm, piccolo maialino Vabbè, 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 lo soffiato, tu devi spaccarlo poi, quindi Piccolo maialino Vai Ok, bancarotta Ok, adesso controlliamo gli altri trophies Ok Allora Allora Allora, 60 minuti Controllo io i trofei e faccio vedere la schermata bianca della morte Cioè, la te blu Facciamo vedere la schermata blu Ehm, che bella la schermata blu, amici 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 Non ho trovato una via d'uscita, i vasi di plastica Allora, vediamo queste vasi di plastica Ehm, i vasi di plastica, i vasi di plastica E vasi, e vasi, e vasi, dove cazzo è? Chi ha scritto? Nooo Questo qui Questo è il L'avevamo fatto Cala baracca, vabbè Seleziona capitolo Sai che cos'è? È la Il minigioco Aspetta, vediamo che Che lui ha detto precisamente dove lo troviamo Perché noi l'abbiamo già trovato Fortino Fortino di cuscini Ah, il primo È il La cosa di The Way Out Ti ricordi che abbiamo trovato i pupazzetti di The Way Out? Eh, ci dobbiamo mettere in giro Eh, abbiamo fatto, hanno parlato No, non tutte e due contemporaneamente, mi sa Cos'è, troppo? È i vasi di plastica Ma che c'è, ma abbiamo fatto, i due guglioni Eh, lo so, forse dovevamo fare assieme Dove minchia, vabbè, no, vicinissimo è Qua, vero Sì, è molto vicino Eh, no, qui c'è il minigioco Andiamo su E poi ti lasci cadere Qua è il berzo a sinistra Andiamo su E poi ti lasci cadere Ok, era tipo Era qui, tipo, qui vicino Qua, 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 qua Vedi? Qua, qua Wow Forse non l'abbiamo fatto in parlamento 3, 2, 1 Ah Ah, questa è una conversazione Questo è un po' di potenallo, questo Questo, lo dovremmo giocare Piuttosto No, l'abbiamo giocato Non l'abbiamo finito Quello è un altro punto di vista Ah, bello C'era la scena segreta che ci eravamo saltate Meno male che ci hanno Ma va 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 Ma ho rompito Sei esploso Due trofei mancano In teoria In teoria Allora Dino Divorasauro E artisti si diventa E artisti si diventa Potete sbloccare nel capitolo 3 Nella sezione c'era una volta Quando sarete nel borgo medievale Dino Land Vabbè Prima dobbiamo fare Divorasauro Perché È prima Letteralmente Minchia Tutti nel stesso capitolo sono Vado Vado Dino Land E che dobbiamo fare Sto dinosauro Cosa dobbiamo fare All'inizio della sezione Dino Land E non c'è il capitolo Dino Land Vabbè Terra dei dinosauri Ah Dino Land Giusto Perché è l'altro scritto in inglese E che dobbiamo fare Allora Potete sbloccare questo trofeo Prenderete il controllo Del grosso brachiosauro Con me Mentre lasciate il dinosaurio rosso a Cody Non appena girerete La prima piattaforma Con il dinosauro di Cody Fatelo avanzare E mangiatelo con me Aspetta Non appena girerete La prima piattaforma Con il dinosauro di Cody Fatelo avanzare E mangiatelo Mi devi mangiare Essenzialmente E io giro Che è che è Ok Adesso provo a mangiare me Qua si fa? Bella domanda No 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 lui prende Che è poi Appena girerete la prima piattaforma Con Cody Eh È dietro Ah Ho visto È buono Ok L'ha dato pure a me Tutto che sono Quello che muore Ok adesso Ultimo trofeo E abbiamo fatto Già finito la live Che è per realtà due ore Abbiamo fatto live Molto più lunghe Due ore? Già Minchia No Un'ora e quaranta Siamo quindi capaci Prima di due ore Finiamo Che artisti si diventa Nella sezione C'era una volta C'era una volta Un cazzo di dinosauro Una volta Quando siete Nel commento Le potrete individuare Una mega stampante Addirittura Una stampante Con una serie di colori Acrilici attorno Per tenere la telefona Dovete semplicemente Sardeggi sullo stampante E farvi Strito Allora Stavo leggendo Dobbiamo andare Una stampante E facciamo Azzeradosta Eh una stampante Eeeh Non lo sdicce Porco cane Porco cane Quella Quella Eh quella Eh quella Eh quella Eh quella Bravissima Minchia Sembra un metallo Ma mai Ma mai ci eravamo Arrivati lì Sono fatte Minchia Ci siamo saltati Un'intera zona Che bello qua Lol Ma andrò E forse perché lo devo rifare pure io Ah lo me l'ho dato Ok Che devo fare No me l'ho dato Platino Se è un po' Ok qui dentro Facciamolo insieme Però So che Che è successo Che è successo Ok Artis si diventa E se platino Coppia imbattibile Mentre spiaccicati Valissimo Bello Minchia Ci eravamo Soltati 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 Bellissimo E se posso Contrare il colore Ma cambia colore Guarda Che bello Giulio E' palesemente acqua Però Fa schifo Un po' schifo Acquarelli Eh vabbè Non è proprio Acqua liquida Non mischia Splatoon Mescoliamo i colori E otteniamo Una bella funcia Neligio Guarda Si può colorare Lì Il dipinto Ah Ah Rilascia il colore Allora si può dipingere Lì sopra Forse Disegno un cazzo Ah ok Facendo così Io giustamente No Ho più di colore Io disegno Un cuore Ma fai un cazzo L'ho fatto Bellissimo A chi A chi Devo invitare Text you Si gioca In two Lo dice proprio Il gioco It takes Zio Allora Invitiamo in party Vabbè Ok Ok Guarda ragazzi Grazie mille Per aver seguito Questa Bellissima serie Avventura Una bella avventura Possiamo dire una cosa È un gioco All'anno Ci sta Ci sta Ma Ci sono Ma Ma ci sta La cosa Che l'ho già detto La Poteva ampliare Meglio Per la versione Per il 5 D'ambio Il miglior Il joystick Però Quello Letteralmente Non era Uno degli obiettivi A quanto male Sennò qualcosa L'avrebbero fatto Infatti hanno messo Solo la vibrazione E niente Io vorrei Perciò che Parlando del gioco In sé Secondo me La questione La questione Che mancava Cioè Questa era proprio Degli umani Cioè Secondo me Era una cosa Che riuscita Ebbene Cazzo non è forte Io ma Tanto se Ho capito Però 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 Sì Il gioco Divertente Tutto bello Funziona bene Multiplayer Ci sta Lug Non Noi Non l'abbiamo avuto Ci sono Ego Ah giusto Ci sono Da per tutto Vabbè Non so Che L'avventura Esatto Porteremo Porteremo Non so Che potremmo Portare Poi Possibile We out Continuiamo Chi lo sa Chi lo sa Di sicuro Di sicuro Ci farò Da cazzo Sono caduto C'è foronore Da continuare Però Oltre a foronore Dobbiamo fare Qualcosa Ho fatto La thumbnail Io non so Se ti si sente Compagnolo Nella live Nel party Hai messo il permesso Allora Lo vedremo Ma quindi Finisce La serie Finisce E quello Quello È un cuore Sai che Aspetta Sai che Sembra Sai che Sembra Qui La parte Verde Una farfalla Oltre una farfalla Più che altro Pensavo Ti ricordi Quel mostro Di Ben 10 Quella linea Di Ben 10 Eh sì No Non era bianco Era bianco Nero Era bianco 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 Soprattutto Verde Sì Quello Che non si metterà Dentro Le stampate Le cose Le tonne Sì 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 Lui Pensavo Sì Vabbè Ci sono Mi Vedi che siamo Artisti L'occhio Quello L'occhio Infatti L'occhio E' preciso E' incredibile No no Non è quello Che dico Io Alla Questo Che volevo Il fantasma Non entrava Dentro Le cose Lui pure Mi pare Di sì Sì Non 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 L'impersonalizzava Vedi Vedi Vabbè Ragazzi Ciao Ciao A lui Non può Lui Non Se lo fa